L'Eco del Boato, storia della strategia della tensione 1965-1974. E questo è il titolo dell'ultimo lavoro del professor Mirko Dondi, docente di storia contemporanea all'Università di Bologna, presentato presso la Mondadori Point di Corigliano Scalo. I lavori sono stati coordinati dal professor Giuseppe De Rosis, mentre a relazionare è stato il professor Giovanni Pistoia. Durante l'iniziativa sono stati letti da Natalia Volio, Franco Cirò, Katia Genova, Giuseppe Forciniti, Anna Milieni e Mario Felicetti alcuni brani del testo del professor Dondi, nonché alcune poesie sulle stragi e la violenza di Giovanni Pistoia. Un volume di circa 450 pagine che rappresenta un viaggio nell'Italia delle stragi e dei misteri. Direi che è la storia della più grande minaccia che ha avuto la nostra democrazia tra gli anni 60 e gli anni 70, ma al tempo stesso è anche la storia di una risposta di cittadinanza attiva, di volontà di sapere, di non mollare, di difesa della democrazia. Da questo punto di vista è una storia etica ed esemplare. È attuale nel senso che queste vicende non sono pienamente note all'opinione pubblica. Questo è un lavoro di ricostruzione storica che non pretende di sovrapporsi al lavoro dei giudici, ma che cerca di costruire dei contesti di strage. L'attualità è sempre nella minaccia che la democrazia deve sopportare di fronte agli attentati terroristici e di fronte alle destabilizzazioni. Tematiche di grande attualità alla luce di quello che è oggi lo scenario mondiale con la continua minaccia del terrorismo internazionale. Certo, oggi lo scenario terroristico è internazionale, globale, sono nuclei inafferrabili per certi punti di vista, quindi uno scenario diverso, ancora più complesso, che richiede risposte in sede di comunità internazionale.